Marijuana, hashish, cocaina, ketamina. C'erano diversi tipi di droga nella disponibilità di una rete di spacciatori scoperta dai carabinieri del nucleo investigativo di Belluno. 11 le persone arrestate con una colpita da due provvedimenti, 48 quelle denunciate e 4 segnalate alla prefettura al termine dell'indagine coordinata dalla procura. Varie le tecniche utilizzate per smascherare il gruppo composto da uomini e donne tra i 21 e i 36 anni, tutti residenti in provincia e attivi soprattutto nel capoluogo dove non esitavano a vendere la droga ai minori delle scuole superiori, spesso tramite terze persone chiamate galoppini. Il ricorso alle intercettazioni telefoniche è stato accompagnato dall'uso di una cimice nascosta in un'auto utilizzata per l'approvvigionamento che ha captato conversazioni piuttosto esplicite sull'attività illegale. I primi quattro arresti erano scattati qualche mese fa al casello autostradale di Cadola. Le altre sette persone sono state fermate negli ultimi giorni, tre di loro sono state portate in carcere, una associata ai domiciliari, altre tre colpite dall'obbligo di dimora. Il gruppo non aveva costituito una vera e propria organizzazione ma aveva un modo di operare abbastanza definito. Acquisti a Padova, Treviso e Venezia e trasporti in auto con il conducente che a volte, sotto l'effetto di sostanze, spingeva il mezzo anche oltre i 200 chilometri orari. Oltre cento i clienti individuati raggiunti nelle scuole ma anche nei rave per un'indagine partita nel 2016 quando una bellunese fu arrestata fuori da una discoteca di mestre mentre si trovava in possesso di diverse droghe sintetiche. Uno degli arrestati degli ultimi giorni, oltre a spacciare, coltivava anche la marijuana. In totale sono stati sequestrati 400 grammi di marijuana in foglie con le relative serre per la coltivazione, 164 grammi di marijuana pronta all'uso, 2 grammi di hashish, 21 grammi di cocaina, 7 di chetamina in polvere e una bottiglietta contenente 12,5 centilitri di chetamina liquida.